Terra Amara Anticipazioni che riprende la puntata di domenica 31 marzo. Per la seconda volta, Akan riesce a salvare la vita di Fikret e alla fine, Zuleyha è in grado di riconciliarsi con lui. Non andare via, mi fido di te. Nell'appuntamento domenicale di Pasqua, assisteremo alla nuova vita che Betul dovrà fronteggiare, dopo una serie di ripercussioni di scelte sbagliate che porteranno a conseguenze ancora più gravi, coinvolgendo non solo lei ma anche sua madre. Kolak, l'uomo che avrebbe dovuto sposarla, trasforma la sua vita in un vero inferno. La situazione di Fikret è estremamente critica. Il giovane si era recato a Mersin per risolvere una questione di lavoro legata all'azienda Yaman, ma a metà strada è stato coinvolto in un grave incidente stradale. Dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, i medici hanno diagnosticato un'emorragia cerebrale. Il nipote di Lutfi è lotta per la vita e la situazione è estremamente preoccupante. Purtroppo, gli esperti non sono ottimisti sulle possibilità di recupero, in quanto l'intervento chirurgico richiesto per salvare la vita di Fikret è estremamente complesso e richiede competenze specializzate e non facilmente reperibili. Cetim profondamente addolorato per il suo amico dichiara. È assurdo. Le gomme si sono disinnestate senza motivi. Il giovane pensa che l'incidente sia stato pianificato in anticipo e sospetta che sia stato Colac a coordinare tutto. Lutfi è si mostra scettica, ma Zuleya crede che le affermazioni di Cetim potrebbero essere plausibili, poiché tutto sembra coincidere. Più tardi le due donne sono sconvolte quando il medico conferma che non riescono a trovare un chirurgo esperto disposto ad operare Fikret. Nel frattempo, a casa di Colac, uno dei suoi uomini riporta con stupore la notizia che Fikret è miracolosamente sopravvissuto all'incidente. In un flashback, vediamo il momento in cui un dipendente di Colac aveva manomesso l'auto di Fikret davanti all'azienda Yaman, scatenando l'atroce incidente che avrebbe potuto uccidere il giovane Ficheli. Contro ogni probabilità, in Svizzera, Hakan ottiene l'impensabile. Riesce a convincere il rinomato dottor Dupont con un assegno in bianco affinché si recchi in Turchia e tenti di salvare la vita del giovane. Molto preoccupato Hakan si rivolge al medico dicendo, ti prego, hai il potere di salvare una persona a me estremamente cara. Il giorno seguente, Zuleyha e Lutfi e pregano per la sopravvivenza di Fikret mentre Hakan e il dottor Dupont finalmente raggiungono l'ospedale di Adana. Fikret viene immediatamente preparato per l'intervento con buone prospettive di vita. Cetin si rivolge a Hakan con parole di gratitudine per aver salvato nuovamente la vita del suo amico. Alla partenza di Gumusoglu dallo stesso ospedale dopo i saluti a Zuleyha e al nuovo sindaco, la protagonista reagisce prontamente e si affretta verso di lui per fermarlo. Sebbene fosse arrabbiata per le bugie che le aveva raccontato per tanto tempo, e nonostante i suoi tentativi di riconciliazione, adesso esprime il suo desiderio di non voler vederlo partire. Con affetto, la protagonista gli chiede di restare in città con lei, non vuole vederlo andare via. Zuleyha spiega che adesso non ha più dubbi su di lui. Mi fido completamente di te, dichiara sinceramente. Hakan ribadisce che non farebbe mai nulla che potesse farla soffrire inoltre. Promette di scoprire la verità su Demir. L'uomo naturalmente accetta senza riserve di restare al suo fianco. Chiede solo una cosa fidati di me. Di fronte a queste parole infine la coppia si abbracciano amorevolmente, sigillando il perdono reciproco dopo una lunga e dolorosa separazione. Nel mentre, Betul è tenuta prigioniera nella dimora di Kolak. Quando egli fa il suo ingresso nella stanza, la ragazza implora di essere liberata. Negando fermamente di aver avuto intenzioni omicide, tuttavia con rabbia, Kolak rivela che l'individuo che le ha venduto il veleno ha raccontato tutto, sprofondando in lacrime. Betul confessa il suo errore e chiede perdono. Kolak la minaccia, affermando che da quel momento in avanti Betul sarà tenuta prigioniera nella sua stessa dimora, nonostante avesse dedicato ogni sforzo a lei in passato. Ovviamente dopo il tradimento si rifiuta categoricamente di perdonarla. Furioso, l'uomo le domanda cosa Abdu Kadir le abbia detto, ma lei nega ogni coinvolgimento da parte di Kadir nelle sue azioni. Kolak le rivela che Betul ha accompagnato personalmente Abdu Kadir in ospedale e, con veemenza, esclama. Pensavi davvero che io fossi all'oscuro? Conosco ogni dettaglio di ciò che avviene a Shokurova sono ovunque. Poi, con furia, la spinge sul letto e sbatte la porta con violenza. In ospedale i medici comunicano a Lutfi E, Zuleya e Akan che l'intervento chirurgico di Fikret è in corso e che tutto procede per il meglio, poiché il dottor Dupont è il più qualificato. Poco dopo l'assistente di Lutfi E fa il suo ingresso e rivela gli eventi legati a Betul durante il giorno del suo matrimonio. Successivamente la donna spiega che Abdu Kadir è rimasto ferito nel tentativo di rapire la ragazza. Akan, preoccupato, si affretta a controllare le condizioni del suo amico, il quale confessa di aver sottovalutato l'amore che Betul provava per lui. Nel frattempo, Kolak perde il controllo quando scopre che grazie all'intervento di Akan, il miglior chirurgo proveniente dalla Svizzera è stato portato ad Adana per salvare la vita di Fikret. Kolak sospetta che Gumusoglu abbia compiuto questa azione solo per impressionare Zuleya. Nel frattempo, Shermim intimorita dalla pericolosa minaccia di Kolak, cerca il sostegno di Abdul Kadir, la donna è profondamente preoccupata per l'assenza di notizie sulla sua figlia. Dopo aver scoperto della relazione tra la giovane e Abdul Kadir, si affretta in ospedale per condividere con l'uomo i dettagli di quanto accaduto con Betul nella speranza che possa aiutarla a rintracciarla. Tuttavia, la signora si trova di fronte a un Abdul Kadir radicalmente cambiato. Dopo che Betul lo ha abbandonato in ospedale in condizioni critiche per andare a sposare Kolak, l'uomo proclama di non avere più fiducia in loro. Avendo scoperto la loro insaziabile brama di ricchezza, Kadir sentendosi tradito rifiuta di aiutare Shermim e promette vendetta. Nel frattempo, Zuleya e Cetin si recano alla questura e denunciano apertamente Kolak per il tragico evento riguardante Fikret. Quando il pubblico ministero domanda loro il motivo delle loro accuse, Zuleya narra l'incidente in cui Kolak ha assaltato la villa e Fikret è intervenuto per difendere tutti loro. Credono quindi che l'incidente di Fikret sia stata una vendetta da parte di Kolak per il litigio di quel giorno. Successivamente, la polizia giunge in ospedale per registrare la testimonianza di Abdul Kadir su quanto accaduto. Tuttavia, quest'ultimo non menziona che il colpevole dello sparo che ha rischiato di ucciderlo e suo fratello Vaap. Anche Shermim, angosciata, contatta le autorità per segnalare la scomparsa della figlia. Nonostante la polizia faccia una perquisizione nella casa di Kolak, quest'ultimo riesce a superare la perquisizione e mantenere Abdul prigioniera in un'altra sua proprietà in campagna. Shermim quindi si rivolge anche ai mezzi di comunicazione. Ma tutte le sue ricerche non portano alla localizzazione della figlia. Grazie all'intervento di Shermim, la stampa pubblica un dettagliato articolo che accusa Kolak dell'omicidio di Abdul, la notizia si diffonde rapidamente in tutta Shukurova, suscitando scalpore e attenzione da parte della comunità locale. Tutto questo accade proprio mentre Vaap fa una scoperta sconvolgente riguardo alla falsità del matrimonio tra Kolak e Abdul. Questa scoperta aumenta le tensioni e i misteri legati a questa intriganta vicenda. Le anticipazioni terminano qui. Per non perdere i prossimi video iscriviti al canale.